Nel quartiere di Rosciano continua la raccolta delle firme da parte dei cittadini per denunciare il pericolo che pedoni e ciclisti si trovano a dover affrontare con la nuova viabilità dettata dall'apertura del nuovo pezzo di interquartieri. Ma ad espandersi a macchia d'olio non è solo il malcontento dei cittadini e di coloro che per raggiungere in bicicletta in sicurezza il centro di Fano dovranno fare la circunnavigazione del quartiere passando così gli è stato detto per Sant'Orso allungando di parecchio il percorso. Il malcontento misto a preoccupazione serpeggia anche tra i commercianti della zona allarmati dal possibile senso unico di circolazione della strada che creerebbe un calo della clientela per la difficoltà di accesso e quindi una sempre maggior difficoltà a far quadrare i conti dell'attività commerciale che con tanti sacrifici si porta avanti. Sì diciamo che la gente non è proprio contenta della nuova viabilità e rimane molto difficile venire dalla zona diciamo dalla parte dell'Ausciano venire qui a Rosciano e diciamo che per il momento si stanno lamentando in tanti poi vedremo comunque la fine dei lavori e cosa cosa ne esce vediamo vediamo adesso a breve vedremo. E anche il senso unico che dovrebbe venire qua insomma vi preoccupa? Senso unico che senso unico in più non c'è una pista ciclabile che porta a fanno. Ma c'è anche chi con il nuovo senso di marcia si ritrova con le auto che sfrecciano davanti al cancello di casa. Vi sentite un po' chiusi? Un po' chiusi sì perché il senso non si va più e ci sono i bambini c'è qui anche il limite di velocità perché c'è la strada che vanno su direttamente anche forte perché non si può con i bambini piccoli c'è proprio il cancello lì che basta basta portare una scarpa davanti già si mettono la ruota sul piede. Quindi questo nuovo senso di circolazione non vi trova molto con te? Non ci trova no no assolutamente no. Da quando hanno cambiato per voi si è complicata un po' la vita? Un pochino sì non abbiamo la libertà di andare giù andare là andare su. Siete un po' vincolati dovete andare fino a Rotondo e poi tornare indietro sì